in questo racconto. È una donna, una donna che tutti voi conoscete, che in questa settimana ha avuto una notizia molto bella dopo anni e anni di sofferenze. È stata assolta perché il fatto non sussiste in un reato che l'ha turbata per oltre sette anni, credo. Ciao. Ciao Mazzini. Allora, scusa che rubiamo qualche minuto, no? Prima di fare un confronto acceso anche con le ali e tutto il mondo di Genovese. Però è importante. Sette anni, hai letto, hai finito un incubo durato sette anni. Massimo, il grande Enzo Tortola direbbe dove siamo rimasti? Beh, io sono rimasta a gennaio del 2014. Lui era rimasta lì. Sono rimasta a gennaio del 2014, era una giovane donna, era una mamma di una bimba di un anno e mezzo che è cresciuta con questo processo. È cresciuta con una sofferenza, con un incubo enorme, con ingiuria, con il fango. E per sette lunghi anni io sono stata zitta. Tu lo sai, ho avuto ruoli politici, ruoli mediatici che mi consentivano di difendermi dal processo e non nel processo. Ma io sono stata educata ad avere rispetto della magistratura. Hai stata costretta anche alle dimissioni, hai dato tu le dimissioni. Io mi sono dimessa da persona non indagata. Nessuno l'ha detto. Tutte quelle prime pagine che si vedono sugli schermi del tuo studio hanno riportato cattiverie inenarrabili. Mai nessuno che avesse detto, e non per questioni di spazio, ma sicuramente per questioni di stile, questa ragazza di 37 anni si dimette per difendere la sua dignità da non indagata. Nessuno me l'ha riconosciuto e per sette anni sono stata in silenzio. E sai Massimo, se tu sei un delinquente, lo metti in conto un processo, è un rischio del mestiere. Ma se sei una persona per bene, tu entri in un tunnel di disperazione che ha difficoltà a dirti oggi. Perché ti dico una cosa grande ma ho il dovere di dirlo, altrimenti questa sofferenza cadrà nell'oblio. Ci sono stati giorni che io avrei aperto la finestra della disperazione. Lo dico alla donna che è cattolica. Hai pensato anche a porre fine alla tua vita? Sì, perché mi sembrava una cosa impossibile. Mi sembrava che ti devo fare un passo indietro di come sono cresciuta. Io ho una mamma molto severa, un po' come la tua buona. Avevo l'età di Gea, otto anni. Torno a casa con una bella gomma da cancellare. Mia mamma mi dice, chi te l'ha data? Dico, mamma, la mia amichetta Anna me l'ha data. Schiaffo in faccia, pieno. Io comincio a piangere con una disperata. Dico, mamma, ma me l'ha regalata, ti giuro. Allora lei chiama la mia amichetta e l'amichetta conferma che me l'aveva regalata e lei non mi chiede scusa. Mi dice, questo schiaffo lo ricorderai. Perché se mai ti dovesse venire in mente nella vita di prendere qualcosa senza autorizzazione, ti ricorderai questo schiaffo. Io così sono cresciuta. Sono cresciuta con la legalità. Ho fatto l'avvocato perché ricordavo Falcone e Borsellini. E tua figlia ha aiutato a far sì che tu non aprissi quella finestra e non ti buttassi via per sempre? Può essere? L'unica cosa che mi ha aiutato è mia figlia. Io se ti devo dire la verità, io ho chiuso la porta del mio cuore per sette anni. Gea è stata la forza. Il suo sorriso mi ha detto no, non si deve andare avanti, la vita è troppo più forte. Quante volte tu mi hai visto combattere, sorridere, ma era un sorriso che nascondeva una sofferenza gigantesca. Ecco, ma oggi però hai questa soluzione perché il fatto non sussiste. C'era stata una condanna, richiesta di condanna a oltre otto anni perché eri ritenuta il capo di una specie di direttorio politico che aveva a che fare con la gestione dell'Asla di Benevento. Ecco, oggi tu puoi dire sono stata assolta. Oggi posso dire sono stata assolta e questa cosa mi libera. Ma cos'è che non ti basta? Sai cosa non mi basta? La cattiveria di chi non ti ha creduto. Sai cosa non mi basta? Che non mi basta è il fatto che noi viviamo in un sistema, e questi titoli te lo dimostrano, dove al di là della magistratura, poi arriveremo anche a questo perché devo dirti anche qualcosa su questo, ma c'è un sistema mediatico giudiziario, che è sconvolgente. Cioè ci sono persone che si sentono unti dal Signore, che nel momento in cui una persona viene indagata, che è a tutela di una persona, si considerano una persona condannata per sempre. E allora quel fango continuo, una cattiveria incredibile, ho avuto in un giornale che è il Fatto Quodidiano, 13 prime pagine in 25 giorni. Oggi è un trafiletto. E' questo purtroppo quello che capita spesso in queste situazioni. C'è una cosa in più, adesso dobbiamo andare avanti con questo mondo di Genovese, che stiamo raccontando, che è un po' un mondo anche che forse qualcuno ipocitamente fa finta che non sia mai esistito, lo scopre adesso. Ecco, l'ultima cosa che vuoi dire? Massimo, io dico questo. Se oggi Tortora fosse vivo, chiederebbe a noi a che punto siamo. E gli dovremmo spiegare che chi ha sbagliato su di lui è stato promosso. Io ho molta fiducia nella magistratura, ma la legge è uguale per tutti, chi sbaglia paga. E credo che se una persona commette degli errori, quantomeno non deve fare carriera. Perché chi ha sbagliato con Tortora ha fatto carriera. E questo non è giusto. E' assurdo, è impensabile in una società che è civile. In questi giorni io ho avuto tante chiamate, tra cui la tua. Ho avuto la chiamata di un magistrato che mi ha detto, congratulazioni. Poi si è fermato e mi ha detto, no, io ti devo chiedere scusa. Perché noi magistrati dovremmo chiederti scusa per quello che ti abbiamo fatto soffrire. E io oggi devo dire grazie, e lo faccio qui, non ti arrabbiare, non solo alla mia famiglia, all'avvocato Cagliazza, all'avvocato di Verlizzi, all'avvocato Leone, a chi mi ha voluto bene, a mia figlia che mi ha dato la mano per non aprire quella finestra a te. Perché quando è arrivata quella sentenza, quella richiesta di condanna, quando qualcuno che si sentiva unto dal Signore ha iniziato a ricattarci mediaticamente. Qualche blogger, qualche giornale famoso, e a dire che la mia presenza di una persona per bene in questo studio infangava te e la tua trasmissione, tu ci hai creduto e sei andato avanti e mi hai tenuto qua. E quindi grazie, ti voglio bene, e a chi... I miei amici si vedono in momenti difficili, comunque questa sentenza importante ti ripaga di tanto dolore, eccetera. Mi fa tornare a vivere. Allora, abbiamo tirato un po' il fiato, perché insomma ci conosciamo a tanto tempo.